Doctor Strange. Finalmente in Blu-ray e DVD. Doctor Strange. Il tuo lavoro ha salvato migliaia di vite. E se ti dicessi che quella realtà è una delle tante? Perché mi sto facendo questo? Ci sono altri modi per salvare vite. Insegnami. Doctor Strange. Finalmente in Blu-ray e DVD. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.